Berardo Tandrini, combattendo a massa sette anni fa, 1799, luogo da vendita, fra diavolo, 1896 e tutta la valorezza. Io sono combattuto di francesi, a me non mi è mai piaciuta quella gente, dove arrivavano facevano le strisce, fregavano tutte, facevano la gente, vietti, guagliune, tutto quanto, o andavano una passola in mese alla piazza e dicevano che gli erano i patatesi, ritentavano la chiesa, alla casa degli santi, ci mettevano i cavalli, lo facevano di un'altra stalla, la chiesa nostra, io che la gente la sono combattuta, l'interno la siamo pure venciuta, la siamo rimanata, però che si preoccupa la ramegna, la ramegna non la stai mai, tu la vievi, ti rivecchi, e non è rivenuta, e stavolta una vita da Napoli, la mia vita, mi hanno agiappata, mi hanno beccata, in bocca, quello che vedete qua è il capo mio, a qui, San Nazio, la comune di Cipedema, il paese viene, perché dopo che è una cosa, i capo di noi si prendono la scatola di ferma e mi hanno portato paese per paese, scostato dai soldati, perché tutto quanto ti arrivano a vedere che io mi era morto, io non saprei come hanno fatto a trovarmi la gente nostra, la gente nostra che tradisce, ma non la gente, i quelli che hanno stato sempre buoni, che hanno tenuto i soldi, sono quelli che sono i vecchi, sono quelli che non si abbottano mai, sono come hanno faino quando entrano in caglietari, le bastazze, pure le vecine, quando sono piccole, ma ti hanno fregato tutte le caglietari che trovano, i manchi ne abbassano, finché rimanano luoghe, e tutta roba sia e ancora non ne abbassano, volessero a dirsi, la scia è fatta questa gente, si hanno fregato tutta la terra qua, tutta la terra buona, il giugno non ci sta di giù, i francesi chissà dove hanno portato, le cammelle accesi, qua ci sono rimasti solo i vecchi, di chi siamo solamente, che si stanno fregati tutta la buona terra, che dice che la gente in generale fa dià, ma che vuole fare dià, i poveri vecchi che sono rimasti qua, che li vedono tutti i giorni, la pannanza, già fanno manca a camminare, e ti hanno cercato questa montagna, e ero trovato con mattarella di sporco, per scalarsi, con cosa, essa, che ha fatto questa gente alla terra nostra, qua, io sto qua nanzi, guarda, io penso che quello che le sono fatte, le sono fatte buone, e le rifacesse pure voi. Applausi